La Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, sta partecipando ad alcuni incontri territoriali con i dirigenti e i dipendenti di Abanoa per discutere le prospettive dell'azienda, no alla privatizzazione di un bene che appartiene a tutti. Nel Consiglio Comunale Aperto di ieri i comitati di Borgata hanno chiesto l'istituzione di una commissione speciale composta da consiglieri comunali che avvalendosi di contributi tecnici e scientifici potranno capire meglio il progetto, l'impatto economico e sociale ma anche le ricadute sul territorio. Entra nel vivo il cartellone del Cadean, si apre oggi il secondo lungo weekend ricco di eventi che spaziano dall'arte alla musica, dal teatro all'enogastronomia alla cultura. Nel pomeriggio inaugurazione per Naranal Malcat, la settimana delle eccellenze. Un saluto a tutti voi ben ritrovati, telespettatori di Catalan TV. Come avete sentito anche dai titoli del nostro sommario, apertura del telegiornale di oggi con Abanoa, servizio idrico integrato della Sardegna. In queste settimane la presidente della regione, Alessandra Todde, sta partecipando ad alcuni incontri con i dirigenti e i dipendenti di Abanoa per discutere sulle prospettive dell'azienda, il rinnovo della convenzione d'affidamento in house e la conferma di una gestione pubblica del servizio. Dopo l'incontro di lunedì scorso a Sassari, la governatrice si è recata anche a Gavoi, mentre martedì prossimo sarà a Cagliari. Ma sentiamo i particolari nel servizio di apertura. La presidente della regione Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato a Gavoi i dipendenti di Abanoa dell'area centro, che comprende Nuoro, Oristano e L'Ogliastra, incontro organizzato dal Consiglio d'amministrazione dell'azienda, guidato dal presidente Giuseppe Sardu e composto dai consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri. Si è trattata di una riunione fondamentale, ha spiegato Todde, per discutere sulle prospettive dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Sardegna e le sfide che verranno affrontate il prossimo anno. Il tema fondamentale è il rinnovo della convenzione d'affidamento in house e la conferma di una gestione pubblica del servizio. L'acqua pubblica è un bene comune e, come promesso in campagna elettorale, non permetteremo operazioni che tentino di privatizzare un bene che appartiene a tutti e tutte, ha dichiarato la governatrice dell'isola. La nuova gestione è al lavoro per affrontare le importanti criticità presenti, prima tra tutte quella della manutenzione e della depurazione e rendere i servizi di Abanoa sempre più vicini ai sindaci e all'intera comunità sarda. L'incontro di Gavoi fa parte di una serie di tre incontri territoriali con tutti i dipendenti di Abanoa, circa 1.300. Lunedì scorso a Sassari ha riguardato l'area nord e martedì 17 dicembre l'area sud a Cagliari. Sia la Presidente della Regione Todde, sia il Presidente del CDA di Abanoa Sardu sono stati netti sulla necessità di confermare una gestione pubblica del servizio idrico integrato della Sardegna, chiudendo qualsiasi possibilità a eventuali ingressi di partner privati. Per raggiungere questo obiettivo è stato evidenziato come l'azienda possa migliorare la gestione del servizio, gli investimenti, ma soprattutto il rapporto con gli utenti, con i territori e con i suoi soci, che sono, oltre alla Regione Sardegna, anche la quasi totalità dei comuni sardi, ben 342 su 377. E restiamo in ambito regionale, ma con un focus su Alghero, sulla Rada di Alghero, per parlare di salvaguardia della piccola pesca e dell'emendamento presentato dall'On. Valdo di Nolfo, con il quale sono stati resi disponibili i finanziamenti necessari a sostenere il comparto della piccola pesca, attivo nella Rada di Alghero, in particolare le attività autorizzate all'interno del Parco Naturale Regionale di Porto Conte e dell'area marina protetta di Capocaccia Isola Piana. Questo intervento mira a supportare iniziative fondamentali per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, per l'educazione ambientale, per l'attuazione di progetti finalizzati alla promozione del pescato locale e delle tradizioni della piccola pesca algherese, si legge nella nota del consigliere regionale algherese. In particolare, i finanziamenti consentiranno di coprire le spese relative a eventi di valorizzazione del pescato e dei saperi locali, oltre a garantire i costi del personale impegnato nell'attuazione di queste iniziative. Il nostro obiettivo, ha dichiarato l'On. di Nolfo, è garantire il pieno supporto a tutti gli operatori della piccola pesca, non limitandoci solo i 22 attualmente destinatari di questo emendamento. Su questo continueremo a lavorare insieme al Consiglio di Amministrazione del Parco di Portoconte per ampliare le tutele e le opportunità a tutti gli operatori storicamente attivi. Ed ora spazio ad un altro tema importante, ovvero l'emergenza abitativa. Quest'oggi, l'assessore all'urbanistica del Comune di Alghero, Roberto Corbia, è a Roma, in rappresentanza dell'ente algherese, per prendere parte a una manifestazione che davanti al Parlamento lancia una piattaforma per chiedere un piano casa nazionale composto da cinque punti fondanti. Il tema dell'accesso alla casa sarà uno dei pilastri della programmazione urbanistica nella definizione del nuovo PUC. Allo stesso tempo la costituzione di un apposito ufficio, politiche per la casa, con l'obiettivo di ridefinire accordi con area. Per questo la città di Alghero aderisce all'iniziativa per un piano casa nazionale che promuove la proposta della città al governo e al Parlamento. Il tema dell'accesso alla casa è un'emergenza strutturale di tutto il Paese che non può essere riversata sulle spalle dei soli comuni, ha commentato l'assessore Corbia. L'impegno dello Stato deve essere massimo ed è per questo che aderiamo con convinzione a questa importante iniziativa che vede il coinvolgimento di numerosi comuni italiani al fine di sensibilizzare il governo e tutto il Parlamento su un tema che deve entrare con urgenza nell'agenda politica del Paese. Le cinque proposte della città, al governo e al Parlamento sono la legge quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sociale, l'assegnazione gratuita ai comuni di immobili inutilizzati, il rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli, legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche e la misura nazionale per l'emergenza abitativa e le persone senza dimora. Si è tenuto ieri il Consiglio Comunale aperto sul tema del collegamento tra il ghero e l'aeroporto con il sistema dei treni a idrogeno. Buona la partecipazione dei cittadini, soprattutto quelli provenienti dalle borgate. Tra le richieste presentate dai comitati, quella di una commissione speciale composta da consiglieri comunali che avvalendosi di contributi tecnici e scientifici potranno capire meglio il progetto, ma anche l'impatto economico e sociale, le ricadute dello stesso sul territorio. La nomina di una commissione speciale. Questa è la richiesta principale dei comitati di borgata presentata all'amministrazione e alla Presidenza del Consiglio Comunale durante la riunione del Consiglio aperto sul tema del collegamento tra il ghero e l'aeroporto con il sistema dei treni a idrogeno, proposto dall'Arst e finalizzato con fondi PNNR per oltre 200 milioni di euro. Commissione è prevista dal regolamento e è composta da consiglieri comunali che avvalendosi dei contributi tecnici e scientifici potranno capire meglio il progetto, l'impatto economico e sociale nonché le ricadute sul territorio. Un progetto e un sistema, che conferma il sindaco Remondo Cacciotto, non è mai stata ritenuta l'alternativa migliore per l'amministrazione algherese. La nostra posizione è stata chiara fin dall'inizio. Ritenevamo che ci potesse essere un'alternativa migliore o quantomeno di confrontare le diverse tecnologie. Da amministratore, spiega il primo cittadino algherese, ho ritenuto che ci fosse la possibilità di confrontare diverse opzioni per valutare la migliore per la comunità. Visto che il percorso istruttorio non si può fermare perché in stato estremamente avanzato, ritengo che si debba cercare di ottenere i maggiori benefici possibili. Per questo ci siamo fatti carico di tutte le istanze dei privati e dei cittadini per presentarli in conferenza dei servizi, affinché tutti gli enti preposti ne potessero tenere conto. È un progetto ereditato dalla giunta regionale precedente, chiarisce Cacciotto, con l'avvallo delle amministrazioni che hanno governato Alghero e Sassari in quegli anni. Riteniamo che probabilmente andava accompagnato meglio dal punto di vista della comunicazione e del coinvolgimento dei cittadini. Cittadini coinvolti con grande soddisfazione del presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, che sottolinea la grande partecipazione, in particolare dei cittadini abitanti nell'agro, che hanno risposto massicciamente alla chiamata, dando un forte contributo al dibattito, segno che c'è molto interesse sul tema e grande voglia di copartecipazione alle decisioni che interessano il territorio. A proposito della Commissione, il presidente della Massima Sise Cittadina annuncia che nei prossimi giorni si vedrà come procedere. Inoltre, c'è stata la disponibilità dell'amministrazione a percorrere la strada di un confronto, sia con la città metropolitana, sia con il Ministero delle Infrastrutture, per capire meglio i margini di manovra sul progetto, conclude Pirisi, ringraziando tutti per la partecipazione lungo la strada della concertazione pubblica. È stato il presidente della Commissione Comunale Igiene e Sanità, Cristian Mulas, a lanciare un allarme che denuncia il grave disagio per gli operatori della struttura del primo pescato nel porto di Alghero, a causa di uno sversamento di materiale fognario dalle tubazioni della zona che ha invaso gli spazi interni della struttura, mettendo a rischio le condizioni igienico-sanitarie dell'area e compromettendo l'attività di chi lavora quotidianamente al porto e chiede un intervento tempestivo da parte degli uffici comunali competenti. Denuncia da parte del consigliere Mulas, che ha provocato la reazione del Comitato Femminile di Orizzonte Comune, che si chiede come mai un consigliere comunale esperto chiede all'intervento del Comune e non di Abba Noa. È imbarazzante. Il Comune in questo caso è parte lesa, considerato il danno recato alla struttura di sua proprietà, sottolineano Barbara Camerada, Barbara Casini e Maria Ciliano, che chiudono interrogandosi sulla necessità di un comunicato sull'argomento e se Mulas faccia parte della maggioranza o dell'opposizione. L'intervento del Comitato del suo partito ha portato a una nuova reazione. Il Capogruppo, che ricorda come la responsabilità della struttura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del mercato sia di competenza esclusiva dell'amministrazione comunale. Per quanto riguarda la mia posizione, prosegue, voglio rassicurare le signore preoccupate, non ho mai dichiarato l'intenzione di uscire dalla maggioranza. Il compito di un consigliere comunale è quello di segnalare e ascoltare le istanze dei cittadini, come ho sempre fatto. Inoltre le problematiche legate alla salute pubblica non hanno colore politico e vanno affrontate con senso di responsabilità e senza divisioni ideologiche. Non mi sono mai lasciato intimidire in passato, figurarsi ora riguardo le mie scelte politiche e personali. Pertanto, continua Mulas, vorrei che tutti, in particolare chi continua a sentirsi offeso o preso di mira dai miei interventi, prendessero atto del fatto che io continuerò a rispondere alle esigenze degli algheresi senza nascondermi o spuggire alle mie responsabilità verso coloro che con il loro voto hanno deciso di eleggermi. A chi si sentisse turbato ancora, consiglio un buon analgesico, Chiosa Mulas. Ed ora passiamo ad un'informazione utile da Porta Terra a causa di un danno verificatosi al mezzo in dotazione, al servizio manutenzioni del Comune, il servizio di fornitura dell'acqua potabile è temporaneamente sospeso, questo per consentire di effettuare le riparazioni necessarie. L'autobot resterà ferma per la riparazione del guasto che si conta di effettuare nel più breve tempo possibile al fine di ripristinare il servizio. Decoro a Verdi Urbano cittadino, ora perché sono cominciate proprio oggi le attività di potatura e abbellimento delle alberate previste dal terzo degli appalti avviati dal settore manutenzioni, coordinato dall'assessore Francesco Marinaro, gli alberi che verranno sottoposti al macchiage sono quelli della zona di Maria Pia, ma non solo, le operazioni sono cominciate da Via Costantino, Via degli Amici del Regbi, Via Le Primo Maggio, passando per Via Emilia, Via Calabria, Via Toscana e Via l'Europa. Il lavoro si sposterà poi nella Via Matteotti e in quella De Gasperi. In base all'ordinanza dello scorso novembre viene reso noto che qualora fosse necessario saranno posizionati i cartelli di divieto sosta con rimozione forzata e oscurata. La segnaletica in contrasto con i divieti è prevista inoltre, la chiusura al traffico delle intersezioni che saranno interessate da questi lavori. Ed entra nel vivo il cartellone del Cadean, secondo weekend di appuntamenti tra arte, musica, teatro, ma anche Eno Gastronomia e Cultura all'interno del programma predisposto da Fondazione Alghero e Amministrazione Comunale. Saranno tre gli appuntamenti previsti per oggi, il 12 dicembre, intanto l'esordio di Naral Al-Malcat, giornata del dono, solidarietà sotto l'albero, alle ore 16 nell'ex mercato ortofrutticolo a cura del settore attività produttive con il coordinamento di Algonet. Alle 17 al Qualtè la presentazione del nuovo libro di Antonio Budruni, questa volta il protagonista è il campione mondiale di box, Torre Burruni, dalle 18 brindisi nell'Algheveglia con Cincina al centro, iniziativa del Centro Commerciale Naturale al Centro Storico, in collaborazione con la Cantina di Santa Maria La Palma. Domani, venerdì 13, alle ore 18, sempre all'ex mercato, secondo appuntamento per Naral Al-Malcat con l'inaugurazione del villaggio, con brindisi e presentazione del progetto. Alle 20 e 30 il teatro civico farà da cornice allo spettacolo La Roba d'Altri, di e con Francesco Civile, produzione Origamundi, a cura della compagnia. Teatro d'inverno. Parliamo ora di un doppio appuntamento organizzato per domani al Qualtè dalla Società Umanitaria di Alghero, alle 16 e 30. Nella Mediateca prende il via un laboratorio sul linguaggio del cinema, che è già sold out, a cura del filmmaker Fabio Sanna, che si propone di analizzare la struttura linguistico-formale del film per svelare le capacità di condizionamento che il cinema ha sull'uomo e appropriarsi di questi meccanismi per comprenderli e utilizzarli. Sono in programma sette incontri di due ore ciascuno. Attraverso la visione di esempi tratti dalla storia del cinema ed esercitazioni di scrittura visiva, i corsisti faranno un viaggio nell'arte e nella propria coscienza. Alle 19 nella sala conferenze del Qualtè, con ingresso libero e gratuito, il Centro Servizi Culturali presenterà invece Sardinia Green Trip, serie web doc sulla sostenibilità ambientale in Sardegna, diretta da Andrea Amura, che sarà presente in sala. La serie, quattro puntate da 15 minuti, ciascuna esplora attraverso un viaggio nelle quattro province sarde le storie di innovatori, imprenditori e comunità isolane che hanno scelto un modello di vita basato sulla sostenibilità ambientale. Resta raccontando, scusate, come sia possibile coniugare tradizione, sviluppo economico e racconto di sostenibilità ambientale, rispetto per la natura, quindi attraverso un viaggio che abbraccia l'isola. Ed ora chiudiamo con l'Istituto IPA di Alghero o dell'Istituto Rote di Piazza Sulis, che apre le sue porte al territorio, agli studenti della scuola secondaria di primo grado in fase di orientamento, ma anche alle loro famiglie e a quanti avranno piacere di visitare la scuola. Alvia oggi, dalle 16 alle 19, il primo degli open days organizzati dalla scuola, scuola che vanta 11 laboratori professionali, dotati di tecnologie avanzate, talvolta uniche in Sardegna e tra le primissime a livello nazionale. Tra i laboratori che si potranno visitare, quelli di tecnologie meccaniche applicate, elettrotecnica, elettronica, di informatica, fotografia, stampa 3D e immersivo con realtà virtuale aumentata. Mercoledì 18, dalle 15 alle 17, gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno effettuare le prove nei laboratori e sperimentare alcune attività didattiche fra i corsi di manutenzione e assistenza tecnica, tecnico per i servizi socio-sanitari e odonto-tecnico. L'IPIA ha già annunciato altri due open days, martedì 14 e 28 gennaio 2025, sempre dalle 16 alle 19. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale. Come sempre, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Grazie e arrivederci.